L'aloe, un tesoro di natura e benessere. Ciao a tutti e benvenuti sul canale Mamariotti Academy. Oggi vi parlerò di una pianta straordinaria, conosciuta per le sue incredibili proprietà benefiche, l'aloe. Già da tempo conosco questa affascinante pianta e dopo il mio recente viaggio a Gran Canaria, ho deciso di approfondire e condividere con voi tutto ciò che so ed ho scoperto negli anni. Se già non la conosci e magari stai pensando di fare anche tu una vacanza alle Canarie, Gran Canaria è una delle regioni dove potrai scoprire questa pianta. Infatti, con il suo clima ideale, è il luogo perfetto per la crescita dell'aloe. Quindi mettetevi comodi, perché vi porterò con me in questo viaggio alla scoperta dell'aloe e dei suoi innumerevoli benefici. Vediamo insieme cosa troverete in questo filmato. Proprietà generali, controindicazioni, dove trovarla, come coltivarla a casa, diverse varietà, aloe vera ed aloe arborescens a confronto, la mia esperienza personale. Le proprietà generali dell'aloe. L'aloe è una pianta dalle proprietà eccezionali che ha conquistato il mondo per i suoi benefici terapeutici. Utilizzata fin dall'antichità e in varie tradizioni medicinali, l'aloe è un vero toccasana per il nostro organismo. Le sue foglie carnose contengono un gel ricco di nutrienti, che può essere utilizzato in molteplici modi. Vediamo insieme quali sono le principali proprietà che rendono l'aloe una pianta così speciale. Proprietà curative. L'aloe è famosa per le sue potenti proprietà curative. Il gel contenuto nelle sue foglie è spesso usato per trattare ferite, ustioni e irritazioni cutanee. Questo, grazie ai suoi effetti cicatrizzanti e lenitivi, che accelerano il processo di guarigione e riducono l'infiammazione. Proprietà idratanti. Un'altra qualità dell'aloe è la sua capacità di idratare in profondità. Il gel di aloe è composto principalmente da acqua, il che lo rende un idratante naturale perfetto per la pelle. Penetra facilmente nei vari strati della pelle, migliorandone l'elasticità e prevenendo la secchezza. Utilizzare prodotti a base di aloe, come creme e lozioni, può aiutare a mantenere la pelle morbida e luminosa. Proprietà antiossidanti e immunostimolanti. L'aloe è anche un potente antiossidante naturale. Contiene composti come le vitamine C ed E che proteggono il corpo dai danni dei radicali liberi. Questi antiossidanti non solo aiutano a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle, ma rafforzano anche il sistema immunitario, migliorando la capacità del corpo di combattere infezioni e malattie. Consumare aloe, sia in forma di succo che come integratore, può quindi contribuire a mantenere il corpo in salute. Benefici digestivi. Consumare aloe sotto forma di succo può migliorare significatamente la digestione. Il succo di aloe aiuta a bilanciare i livelli di acidità nello stomaco, alleviando sintomi come il bruciore di stomaco e la sindrome dell'intestino irritabile. Inoltre, le proprietà lenitive dell'aloe possono ridurre l'infiammazione nel tratto digestivo, promuovendo una digestione più efficiente e un miglior assorbimento dei nutrienti. Proprietà disintossicanti. Infine, l'aloe ha potenti proprietà disintossicanti. Aiuta ad eliminare le tossine accumulate nel corpo, supportando la funzione epatica e renale. L'assunzione regolare di succo di aloe o la composizione di esse, come la ricetta di padre Zago, di cui troverete in descrizione ulteriori informazioni, possono contribuire a purificare il corpo, migliorandone il benessere generale e favorendo una sensazione di leggerezza e vitalità. Controindicazioni e particolari attenzioni nell'uso dell'aloe. Sebbene l'aloe sia una pianta dalle proprietà straordinarie, è importante utilizzarla con consapevolezza. Come per qualsiasi rimedio naturale, esistono alcune precauzioni da tenere in considerazione per evitarne un uso improprio o potenzialmente dannoso. In questo capitolo, vediamo insieme le principali controindicazioni e i punti a cui prestare attenzione per utilizzare l'aloe in modo sicuro ed efficace. Allergie e sensibilità. Alcune persone possono essere allergiche al gel di aloe. Effettuate un test su una piccola area della pelle prima di un uso estensivo. Se avete la pelle sensibile, iniziate con piccole quantità di gel per evitare irritazioni. Uso interno. Il succo di aloe ha proprietà lassative che possono causare crampi e diarrea se consumato in eccesso. Seguite sempre le dosi raccomandate. Consultate il medico se assumete farmaci, poiché l'aloe può interagire con alcuni medicinali. Gravidanza e allattamento. L'uso interno di aloe è sconsigliato durante la gravidanza e l'allattamento a causa dei potenziali rischi. Meglio evitarlo in questi periodi. Qualità del prodotto. Acquistate prodotti di aloe da fonti affidabili per evitare additivi dannosi. Cercate certificazioni di purezza e controllate sempre le etichette degli ingredienti. In sintesi, l'aloe è benefica, ma va usata con attenzione. Consultate un medico in caso di dubbi e seguite le linee guida per un uso sicuro. Dove trovarla, l'aloe è una pianta straordinaria, che possiamo trovare in molte forme e prodotti. È possibile acquistare aloe nei negozi di alimenti naturali, farmacie, supermercati e online, o acquistare la pianta in vivai e fioristi. Ecco alcuni dei prodotti a base di aloe più comuni. Gel e creme. Questi prodotti sono ideali per trattare ustioni, ferite, irritazioni cutanee e per idratare la pelle. Il gel di aloe può essere utilizzato puro o come ingrediente principale in molte lozioni e creme. Succo di aloe. Questa bevanda salutare è disponibile in molti negozi di alimenti naturali e supermercati. Il succo di aloe è conosciuto per i suoi benefici digestivi e disintossicanti. Integratori. Le capsule e le compresse a base di estratto di aloe sono un ottimo modo per supportare il sistema immunitario e il benessere generale. Possono essere facilmente trovate in farmacie e negozi di integratori. Prodotti cosmetici. L'aloe è un ingrediente comune in molti prodotti per la cura personale, come shampoo, balsami, lozioni e detergenti per il viso. Questi prodotti sfruttano le proprietà idratanti e curative dell'aloe, per migliorare la salute e l'aspetto della pelle e dei capelli. Prima di continuare, se già non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. A voi non costa nulla, ma a me aiuta. a crescere. Ed ora passiamo al prossimo capitolo. Come coltivarla a casa. Se amate il giardinaggio o semplicemente volete avere un accesso diretto ai benefici dell'aloe, coltivarla a casa è un'ottima idea. L'aloe è una pianta resistente e facile da coltivare, ideale anche per chi non ha il pollice verde. Ecco alcuni consigli per coltivarla con successo. Posizione. L'aloe preferisce luoghi soleggiati, ma può tollerare anche l'ombra parziale. Assicuratevi che la pianta riceva almeno alcune ore di luce solare diretta al giorno. Terreno. Utilizzate un terreno ben drenato e sabbioso, simile a quello delle piante grasse. Questo tipo di terreno permette all'acqua di defluire rapidamente, evitando ristagni che potrebbero danneggiare le radici. Irrigazione. L'aloe non ha bisogno di molta acqua. Annaffiate moderatamente, permettendo al terreno di asciugarsi completamente tra un'annaffiatura e l'altra. In inverno, riducete ulteriormente le annaffiature. Cura. Rimuovete le foglie morte o danneggiate e rinvasate la pianta se diventa troppo grande. Per il vaso. Con un po' di attenzione, l'aloe può crescere rigogliosa e prosperare per molti anni. Le diverse varietà di aloe. Durante la mia ricerca sull'aloe, ho scoperto che esistono più di 500 diverse varietà di questa pianta, ognuna con caratteristiche uniche. Oggi però parerò di quelle più conosciute ed utilizzate, ossia l'aloe vera e l'aloe arborescens. Entrambe queste piante offrono straordinari benefici, ma presentano anche alcune differenze significative. L'aloe vera, scientificamente nota come aloe barbadensis miller, è la varietà più conosciuta e utilizzata. Questa pianta ha foglie carnose e ricche di un gel trasparente, molto facile da estrarre. L'aloe vera è apprezzata per le sue numerose proprietà curative e idratanti ed è ampiamente utilizzata in prodotti cosmetici, integratori alimentari e bevande salutari. D'altra parte, l'aloe arborescens, spesso chiamata aloe erboristerica, è una varietà più robusta che cresce principalmente in zone collinarie montuose. Le sue foglie sono più sottili e contengono un gel meno voluminoso ma altamente concentrato in principi attivi. L'aloe arborescens è particolarmente apprezzata per le sue proprietà disintossicanti e viene spesso utilizzata in preparazioni erboristiche mirate a rafforzare il sistema immunitario e purificare l'organismo. Le due specie a confronto. Sebbene entrambe le varietà di aloe offrano numerosi benefici per la salute, ci sono alcune differenze chiave da considerare. Composizione del gel. L'aloe vera contiene un gel più abbondante e facile da estrarre, ideale per applicazioni topiche e prodotti cosmetici. L'aloe arborescens, pur avendo un gel meno voluminoso, è altamente concentrato in principi attivi, rendendolo particolarmente efficace nelle preparazioni erboristiche. Proprietà curative. L'aloe vera è particolarmente efficace nel trattamento di ustioni, ferite e irritazioni cutanee grazie alle sue proprietà lenitive e idratanti. L'aloe arborescens, invece, è rinomata per le sue capacità disintossicanti e immunostimolanti. Uso tradizionale. L'aloe vera è ampiamente utilizzata nell'industria cosmetica e alimentare, mentre l'aloe arborescens è più comune nelle preparazioni erboristiche e nella medicina tradizionale. La mia esperienza personale con l'aloe. Questa pianta l'ho scoperta circa 15 anni fa, ed in casa ho una pianta di aloe arborescens, che fortunatamente non richiede molto le mie attenzioni, perché sono una pessima pollice verde. Cerco sempre, almeno un mese all'anno, di seguire una cura speciale utilizzando questa specie, e più precisamente sto parlando della cura di Padre Zago, che consiste nell'assumere un preparato a base di aloe arborescens, miele e distillato. Se siete interessati a saperne di più, in descrizione potrete trovare un link per scaricare gratuitamente la ricetta ed altre informazioni. Questa cura mi aiuta a sentirmi più energica e a rafforzare il mio sistema immunitario. Inoltre, utilizzo il gel puro di aloe per la cura del viso, applicandolo come idratante, anche se non così assiduamente come dovrei. Quando vado al mare, questo gel è comunque il mio beneficio principale per il corpo, soprattutto dopo l'esposizione al sole. Infatti questo mi aiuta a lenire la pelle arrossata e a prevenire la secchezza, mantenendola sempre morbida e idratata. Quindi il mio approccio sull'aloe è positivo, sebbene per trovare il gel ed i prodotti che facessero per me, ci ho messo un po', perché ogni marca e composizione può avere varianti differenti che piacciono più o meno ad ognuno di noi. Ed eccoci alla conclusione. Come abbiamo visto, l'aloe è una pianta straordinaria che offre una vasta gamma di benefici per la salute e il benessere. Che si tratti dell'aloe vera o dell'aloe arborescens, le sue proprietà curative sono ineguagliabili. Incorporare l'aloe nella nostra routine quotidiana può aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita in modo naturale e sostenibile. Scoprire e sperimentare le diverse varietà e utilizzi dell'aloe può aprire le porte a un mondo di benessere e salute, tutto grazie ai poteri straordinari di questa pianta antica e meravigliosa. Grazie per avermi seguito in questo viaggio alla scoperta dell'aloe. Spero che queste informazioni vi siano state utili e che possiate beneficiare anche voi delle straordinarie proprietà di questa pianta meravigliosa. Non dimenticate di lasciare un commento e di iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti. A presto!